Ribadisco comunque che l'ho trovato io eh. Ma dai ho fatto appoggio, ho detto voglio vedere se lo vede. No no no. E allora poi mi son fermo, ho detto voglio vedere se lo vede. Ma l'ha visto? No no no, ci vorrebbe la ripresa con la GoPro in tempo reale perché... No no, se l'hai visto bene, io mi son fermato là. No no no. Mi son fermato là e ho detto voglio vedere se lo vede. L'ho trovato io. Che dici? Allora non vedo un Fungosi. E' mio. Ma il culo finocchia. E' mio. Se mi asca di mano provo. No. E' mio. E' mio. E' mio. E' mio.